Salve a tutti, ben ritrovati. Con colpevole ritardo facciamo una reaction al trailer di Yasuo su Project L. Non conosco il mondo dei League of Legends, ma so che questo personaggio è molto popolare tra i fan di LOL. Continua a confermarsi un giocone della madonna per me questo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, perché ho delle cose da dire al riguardo. Comunque noto un upgrade a livello qualitativo notevole. Anche già da questo trailer, che è evidentemente una build aggiornata rispetto alle ultime. Eccolo lì. Questo personaggio ha un sacco di reference ad altri personaggi di altri giochi ed è bellissimo. È stato designato da Marlin Pai, che è un altro dei giocatori coinvolti nello sviluppo di Project L. Ed è un grandissimo, un gigantesco giocatore di Guilty Gear e di Marvel vs Capcom. E si vede tutto. Questo personaggio lo ha fatto lui, quindi è assolutamente folle. Allora, la prima cosa che dobbiamo notare qui... Iniziamo a fare un po' di didattica e divulgazione su Project L. Parlando un po' dei picchiaduro in generale anche. La prima cosa che dobbiamo notare è questa qui. Allora, Project L ha il Wave Dash, che è una cosa che già esiste in Marvel vs Capcom e permette fondamentalmente di cancellare uno scatto indietro in un altro scatto indietro. Avendo questo movimento che sembra un po' strano, però per i nostalgici come me è strafigo. Quindi, vedete questo movimento qui che fa lui? Si chiama Wave Dash. Si può fare in avanti e si può fare all'indietro. In Marvel vs Capcom è parecchio difficile. Io adesso non so in Project L come si eseguirà, però è una cosa molto positiva. Perché in questo tipo di giochi qui, assolutamente folli, avere un Wave Dash significa muoversi in maniera libera e in maniera veloce. Fidatevi che è un plus, non è una cosa negativa. In cui vediamo una specie di Perry, una specie di Recca. Ok, allora, questa doppia mossa che viene eseguita qui. Questo è chiaramente un easter egg, è un tributo, questa mossa qui. È un tributo a Strider Iryu di Marvel vs Capcom. Se voi vi andate a guardare Marvel vs Capcom, c'è Strider che ha questa mossa impicchiata che è fondamentalmente uguale a Yasuo. Perché vi dico che è sicuramente un easter egg, è un tributo? Perché c'è Clockwork, l'abbiamo visto la volta scorsa, all'interno del team di sviluppo. E Clockwork è riconosciuto nell'ambiente dei picchiaduro come il miglior giocatore di Strider al mondo dai tempi del primo Marvel vs Capcom. Quindi, chiaramente presa da Strider Iryu, chiaramente un omaggio a Strider Iryu. Questa mossa qui, invece, somiglia molto a Narmaya di Granblue Fantasy, che è un altro personaggio pseudo-samurai, quindi è un altro tributo a questo personaggio qui. Lo schiaccia per terra, OTG, super. Qui vediamo un'animazione, penso, di vittoria. Ecco, questa la conoscete. Se avete giocato Marvel vs Capcom, Ultimate Marvel vs Capcom, la conoscerete sicuramente, questa mossa qui è chiaramente Vergil di Marvel vs Capcom. È veramente, veramente figo, è come è costruito questo personaggio, perché è una sorta di easter egg vivente. Quindi qui abbiamo ancora la stance che sbatte a muro. Abbiamo mossa di Vergil, mossa di Strider e mossa di Narmaya, la stance di Narmaya di Granblue Fantasy. Ancora una volta lo può fare anche in aria, lo alza, va di assist, ritorna a lui, lo schiaccia di nuovo per terra. Questa mossa mi ricorda un po' Aomaru di Samurai Shodan, che è un altro samurai iconico della storia dei picchiaduro. Mi piacciono molto questi riferimenti incrociati che stanno facendo in Project L. Super, animata bene, quindi chi diceva che le Super non erano abbastanza cinematografiche, qui dovrebbe ricredersi, secondo me, perché è animata veramente bene questa Super. Quindi niente, questo Yasuo, poi procedono ovviamente a fare un po' una panoramica del gioco in generale, mostrando un po' di gameplay vero, tra virgolette, non costruito di Yasuo. Devo dire che il personaggio mi piace tantissimo, è forse il mio preferito finora all'interno di Project L, ce ne saranno ancora tanti altri, però veramente, veramente tanta roba, perché ci sono un sacco di reference. Puoi vedere tutti questi personaggi iconici della storia dei picchiaduro sintetizzati in un unico personaggio è una cosa veramente, veramente figa. Quindi, fino ad ora, Project L promosso a pieni voti. Continua a essere perplesso sull'aspetto dell'accessibilità, perché come vedete, questo è il tipico gioco, e lo ripeto una seconda volta, in cui i giocatori, non voglio dire casual, ma i giocatori poco avvezzi a questo genere di picchiaduro, dicono non ci sto capendo un cazzo, e lo sentirò tante volte, verrà detto tantissime volte su questo gioco. Sì, mi piace, belle le animazioni, però non capisco niente di quello che succede su schermo. Quindi, devo dire che è una scelta molto audace da parte degli sviluppatori, soprattutto visto Yasuo, che ha un sacco di stanza, un sacco di roba complicata, che pagherà sicuramente verso gli hardcore, presso gli hardcore, scusate, ma a livello di accessibilità, ok, ci sono le special semplificate, ma il movimento è avanzato, è tutto molto avanzato in questo gioco, e sono veramente sorpreso, perché da Project L mi aspettavo qualcosa di estremamente accessibile e di estremamente, se vogliamo, nazional popolare. Invece abbiamo un picchiaduro super hardcore, con movimenti avanzati come il wavedash, e mix-up allucinanti, perché qui vedete anche c'è il discorso di Ecco, che si teletrasporta, lascia la sua immagine, e si può teletrasportare sulla sua immagine, il che è bellissimo per me, ma ripeto, sentiremo un sacco di gente dire non ci sto capendo niente, vedremo come la gestiranno. Detto questo, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!